ci stiamo muovendo seppure lentamente verso una nuova idea di amministrazione rispetto a quella tradizionale il digitale è già oggi un sistema di semplificazione straordinaria la trasparenza diventa comunicazione diventa social diventa cittadini diventa twitter diventa comuni diventa italia il punto chiave del mio intervento sarà quello di vedere quali sono i meccanismi che la comunicazione la trasparenza possono mettere a disposizione delle amministrazioni per diventare accontevole cioè valutabile e partecipabile sono questi due concetti chiave che sicuramente non sono insiti nella storia della nostra amministrazione ma verso cui ci stiamo muovendo l'accountability è uno dei chilassi del governo aperto come si può passare da questa idea di accountability sa qualcosa di molto operativo l'integrità e la prevenzione corruzione si fa attraverso soprattutto i comportamenti individuali allora quello che poi alla fine cercherò di spiegare come si costruiscono le competenze per migliorare i propri comportamenti le proprie condotte per rendere poi nella pia veramente accountable in grado cioè di di prevenire la corruzione ad essere più trasparente possibile e quindi Grazie a tutti